Certo, la piazza di Bologna domenica è una piazza importante per tutti coloro che vogliono un'alternativa a quelle che sono le ingiustizie palesi che un po' tutti i cittadini vivono quotidianamente riguardo alla scelta della politica del governo Renzi in particolare. È chiaro che chi sta assente e chi non è in quella piazza fa una scelta o rinunciataria piuttosto che di essere silenziosamente a sostegno del governo Renzi. Quindi da questo punto di vista se Berlusconi ha scelto di venire, di partecipare, di dare il proprio apporto alla nostra manifestazione è solamente ben accetto, come tutti i cittadini ripeto, perché quella non è una manifestazione con un grande palco, è una manifestazione con una grande piazza, quindi dove ci aspettiamo di vedere tanta gente, tanti elettori sicuramente di Forza Italia perché tanti l'hanno già dato anche l'adesione e tanti elettori di tante parti politiche, non necessariamente solo della Lega, anzi questa sarà un po' la differenza fondamentale, perché quella è una piazza che raccoglierà un po' quelli che si sentono sopraffatti da un modo di fare politica che ti dice che le cose vanno bene, ma quando giri per le strade ti accorgi che la povertà continua a aumentare, quando lavori e sei in un esercizio commerciale ti accorgi che la tua sicurezza è lasciata al caso. Quindi sarà una cartina di tornazione anche per chi vuole uscorsi al governo. Allora... Allora...